E Gisella? Gisella è sempre in agonia. Le fa male. Ma la Dele mi chiede se volevo mangiare. Aveva gli occhi rossi addormentati e sembrava più stanca di me. Mi dice di andarle a prendere dell'acqua se volevo scaldarmi. Fuori era chiaro. Avevo il secchio in fondo al pozzo. Quando sento delle voci vedo il prete con la camicia bianca e un tovagliolo sulle mani e due ragazzi davanti. Vanno dritti in cucina e il cane abbaia. Quando torno col secchio pieno erano già saliti. Sopra sentivo delle voci e borbottare e tirar tavole e sedie. Viene v'inferra dalla stalla. Gli dico che è arrivato. E lui mi chiede se era solo o se Cristo gli portava l'incenso. Poi si versa un bicchiere e si pulisce la bocca. In quel momento dalla scala scende Ernesto. Lo credevo in collina da tutta la notte. E fece allora per salire anch'io. Ma Ernesto mi dice. Aspettate. Le dà l'olio santo. E con questo? Le donne non vogliono. Dicendo così fa per ridere. E doveva essere la prima volta in tutta la notte. Perché si vedevano ancora le mascelle tese. Bevete una volta Ernesto. Gli dice v'inverra. Poi sarebbe meglio dall'acqua alle bestie. E voi altri pensare a piazzare. Non ho ancora il libretto. Gli dico. V'inverra dice. Non pensateci. E ci porta verso la stalla. Il terreno era ancora umido dalla serena. E spalancati i portoni sull'aia. Prepariamo le bestie perché le macchine andavano tirate nel cortile. Io guardavo quel buco della volta. Di dove Talino era scappato. E sulla collina usciva già il primo sole. Non si sentiva un'anima. Neanche un gallo nella campagna. E il cane ci guardava fare. Accucciato sulla porta. Mentre Ernesto mi insegnava a buttare i cinghioni. L'ho un'occhiata alla granza. E gli dico. Chissà dove è andato. Tornerà, dice Ernesto. Dipendeva da voi di lasciarlo in prigione. Ernesto mi guarda brutto. Poi dice. Ho creduto di fare una ragione a chi non ne aveva. Sarà l'ultima volta. Poi si chiamano del cortile. Venivano per battere il grano. Facce della sera prima. Uno dice che Talino l'avevano preso a Monticello. Un altro che era scappato verso la langa. Un altro che non fosse lontano. Ma com'è stato? Chiedeva qualcuno. È stato qui. Vedi le macchie. Se Ernesto del prato non lo teneva, scannava anche i buoi. Venivano altre donne. E salivano. Io guardavo dalla finestra. Doveva ancora esserci il prete. Portate le macchine nel cortile dell'Aia. Le piazziamo al posto giusto. Io guardavo il trambusto e mi ricordo che bestemmiavano tutti ma sotto voce. A sole alto il prete non era ancora uscito. Con Ernesto avevamo già acceso la motrice e passata la cinghia. Ecco che la baracca di legno si chiudeva e si apriva e faceva un rumore come di mille calabroni. Il fischio, dice uno. Piazzata la macchina bisogna farla fischiare perché tutte le campagne lo sappiano. Non si può, dico. E mostro la finestra. Allora salgono sul battitore e dà mano ai tridenti e cominciano a buttare su i covoni. Ogni covone sprofondava come la macchina si fracassasse e i calabroni diventassero il doppio. Al principio quei pochi uomini correvano nella confusione. Poi mi lasciano solo al mio forno. Dal portico fanno la catena per i covoni e le donne pensavano ai sacchi dove il grano cadeva trebbiato. Altre donne ammucchiavano la paglia. Le vedevo con quei fazzoletti sugli occhi, le gambe scalze, e le sottane in aria. Poi una mi sembra Migliota. Allora corro e la fermo. Non eri di sopra col prete? Tu? Il prete è un pezzo che è andato. E Gisella? Non può più parlare. Migliota era già sudata sotto il fazzoletto ma aveva ancora gli occhi rossi. Non è morta. Migliota lascia andare la forca e giù a piangere. È morta. Non so, non mi conosce più. Lasciare la macchina non potevo. Ernesto non c'era. In quel momento sento un fischio da spaccare le orecchie. Un fischio lungo e mi è volto. Erano quei due tanghi riattaccati alla sirena e a tutti i costi volevano il segnale. Allora corro e li sbatto via a calci. Uno resiste e da mano alla pala. Se ne tornò al suo grano. E così continuò quel mattino. Cercava Ernesto e non c'era. A lasciarsi andare la voce del macchinone sotto il sole e la polvere metteva sonno. Sempre uguale a quell'alto e quel basso. Sempre uguale a quel caldo del sole e del forno. E tutti che maneggiavano i tridenti e le forche e portavano i sacchi e saltavano via. Ce l'avevo con Ernesto che scommetto era di sopra e pensavo magari è già morta e tutto fa lo stesso. Se non è morta dicevo forse sente che battono il grano e si ricorda e l'addormenta. A quest'ora non ha più male. Poi manca il carbone e la macchina rallenta. Dico a fin verra quando arriva chiamate Corro in cucina. La Dele e un'altra donna impastavano. Ernesto è di sopra. Nessù faceva fresco ma Ernesto a torso nudo poggiato contro la finestra non si muoveva. La vecchia seduta alla testa del letto cacciava le mosche del lenzuolo e copriva anche il cuscino e sembrava che sotto non ci fosse nessuno. Nessuno diceva niente. Ci avevo tanto pensato. e adesso ero quasi tranquillo. La macchina è ferma dice Ernesto è finito il carbone? Ne scoprimmo la faccia e guardai per un pezzo. Andiamo sotto dice Ernesto non c'è più niente da fare. Che fischiassero pure e gridassero e scoppiasse magari anche la macchina pensavo vedendole due rossi e piantati lassù sopra il grano nella polvere che bruciava più del fuoco. E a fare di questi lavori che gli gira la testa e diventano bestie intorno la macchina ferma con i covoni disfatti sulle braccia tutti voltati aspettando sembrava che sapessero che Gisella era morta. Mentre il lavoro riprendeva la voce cominciò a circolare. allora chi parlava chi smetteva chi andava a vedere le donne sparirono quasi tutte. Un bel momento restiamo soli io Nando Ernesto sotto il cinghione teso e gli altri erano tutti nella cucina e sulla porta. Solo Nando andava e veniva contento e sudato portandomi fascine e abbracciate per riattaccare il fuoco. A mezzogiorno prendo da parte Vinverla e gli dico stasera mi aspettano quindici lire sì o no? C'era la Della sulla scala e ci guardava. Vedete in che stato ho la camicia gli faccio non sono in galera stasera mi date il mio conto e vi cercate un macchinista. Ho già parlato con Ernesto e adesso potete prenderlo. Vinverla mi aveva capito e neanche fiatò. Prima finite il grano eh? si capisce se voglio i miei soldi. La tavola era preparata nella stanza del Torchio. C'era soltanto tagliatelli e vino. La vecchia si scusava perché non avevano avuto il tempo e le braccia mancavano. Fame ce l'avevo anch'io e avevo sonno. Mi prendo il piatto e me ne vado a mangiare sul trave per stare solo. Poi ritorno là dentro per bere un bicchiere e Miliota e Lapina servivano agli uomini. ti parlavano poco e guardavano il piatto. I bambini facevano un mucchio e fin verra con la cappellina in testa passeggiava a capotavola. Vado da me nella stanza delle mele di Cisella e prendo le più belle e mordo dentro come un matto. Stasera pensavo me ne riempio le tasche. Poi mi incammino e giro intorno alla casa dove il sole picchiava ma almeno non c'era nessuno. C'era una pianta di fico che cresceva sull'etamaio e mi fermo là contro e dico basta non tocca più a te più ci pensi più è morta. A tenere il fiato si sentiva il rumore del sole come fosse un incendio. Che pianta non ha neanche un fico dicevo e non fa un dito di ombra così impari a venire in campagna il tuo posto è a Torino poi vado sull'aia e mi siedo sullo scalino della stalla dove c'era un po' d'ombra. Ero venuto a piedi scalzi fino in mezzo al battuto e avevo sentito che mi guardava perdeva sangue da un ginocchio e aveva la braca rimboccata. Mi guardo intorno e non c'era nessuno ho sentito la macchina dice di dove vieni lui fa un passo e si volta e mi mostra la collina ho dormito alla grangia mi dice con la solita voce ho sentito la macchina ho la schiena rotta però aveva paura si guardava intorno mi prese la rabbia e pensavo qui mi fa fesso un'altra volta se non lo fermo mi fa fesso un'altra volta lo sai che è morta gli dico sui denti è morta fa lui sembravano gli occhi di quando era entrato in prigione e girava da tutte le parti come si gira una paglia tra i denti e non si muoveva di là li chiudeva perché aveva vergogna e con la mano si tirava sui calzoni non so ancora adesso perché non gli sono volato addosso a buttarlo per terra era così spaventato che ci sarebbe riuscito anche Nando tocca ai carabinieri dicevo tanto Gisella è morta tanto torno a Torino deve andare in galera e tocca ai carabinieri che stupido pensavo perché non scappa in quel momento me lo immagino addosso a Gisella che urlava e lui come una bestia affiaccarle la schiena e tenersela sotto dovete vedermelo in faccia perché mi accorgevo che tremava e stringeva le dita ma ormai gli avevo parlato vieni in cortile gli dico vieni a vedere cosa hai fatto ma lui dice va a chiamare Pa fai piacere ho bisogno del Pa io lo guardo lo guardo e poi dico va tu guardava in aria e io mi volto era il portico dove avevamo dormito guardava con gli occhi che non stavano fermi poi parla non a me sono qui dice forte con la voce contenta c'era Vinvera alla finestra della stalla prese la corsa verso le canne della strada e dopo un attimo vedo il vecchio sbucare e filare anche lui come può nella stoppia mentre guardavo la collina vuota sentonando che chiama mi cercano i carabinieri dice dalla finestra della stalla subito ma nel cortile era arrivata la guardia di Monticello e mostrava già all'appuntato il mio libretto i due carabinieri avevano il moschetto a tracolla e dalle finestre le donne li guardavano meno Ernesto e quei tre il cortile era vuoto come va quest'anno il grano dice l'appuntato girando gli occhi poca roba stasera è finito fa Ernesto non è in casa il padre Vinvera torna subito dice Nando deve essere andato in cantina e con Ernesto si incamminano al trave mentre la Dele ci guardava ancora dalla finestra ma che guardasse proprio me non credo e con Ernesto e con Ernesto